La moltitudine dei fedeli era un cuor solo e un'anima sola. È scaturita dalla citazione degli Atti degli Apostoli la riflessione che Monsignor Mario Rolando ha proposto ai fedeli delle parrocchie della Valle Sturla, riuniti a bel piano per iniziare insieme l'anno pastorale. Come i due versanti di una vallata siamo vicini e diversi, ha sottolineato il sacerdote, ma occorre ricordare che quello dell'unità è un cammino incordata, non una marcia militare e che non c'è un passo giusto per compierlo. In Valle questo percorso è iniziato in maniera più strutturata già da qualche anno. In continuità con il lavoro dei tavoli, quindi una chiesa in cammino verso gli altri, cioè non essere più dentro, chiuso nella nostra chiesa, nel nostro comfort, ma un'apertura verso gli altri. La vastità, un po' la disgregazione di questo territorio così porta al non comunicare, cioè magari siamo vicini però non sappiamo cosa fa uno nell'altro, c'è un po' questa cosa, invece ci stiamo ritrovando che alla fine forse abbiamo tutti delle potenzialità che messe insieme possono dare dei buoni frutti. Abbiamo, facciamo l'elezione divina a Borzone con Padartiglio, poi abbiamo il catechismo che per ognuno poi fa da solo, però abbiamo anche il gruppo giovani che è quello invece interparocchiale, poi la catechesi per adulti e poi faremo degli incontri in avvento e in quaresimo. Un passo nuovo nel cammino di comunione è quello che compie una chiesa che esce. A Bolzonasca nascerà un centro dove si potranno incontrare le persone che vogliono un po' collaborare con le varie cose che ci sono già e creare qualcosa di nuovo. L'obiettivo è anche quello di estendere all'intero ambito attività di carità che a livello diocesano sono già attive e operanti. Abbiamo il guardarobo sociale a Borgonovo che non è tanto conosciuto. Faremo un invito per chi volesse essere volontario a Casa Bruzzone. Il donarsi, lo spendersi per gli altri è una cosa che ti arricchisce al di là di tutto. Allora non è vero che ci sono tutti questi campanili? No, ci sono, ci sono, però sono campanili quasi abbandonati. No, però insomma, adesso ci cerca di fare ad esempio molti incontri, li facciamo una volta a Bolzonasca, una volta a Bolzono, una volta a Borgonovo, una volta a Borgonovo. Ci cerca anche di andare e è vero che qualcuno magari anche di frequente partecipa alla vita parrocchiale e in questi incontri magari si ci trova.